E continuavo a non capire questa cosa, ma perché Max dice che l'argomento? Io se sono amico di una ragazza è meglio perché poi ho capito tutto negli anni successivi Sì, poi è arrivata appunto la friendzone, hanno dato una spiegazione quasi scientifica alla cosa E tu avevi già capito tutto tempo fa Io avevo già capito perché c'era questo mondo di auto-umiliazione, di gente Io conoscevo questo tizio che di fatto era un taxista abusivo fondamentalmente, gratuito Era un taxista abusivo gratuito perché lui aveva la golf all'epoca nuova Era uno studente universitario che studiava a Pavia e si era portato la macchina Non per girare, ma per portare in giro la tizia di cui era innamorato segretamente Io lo sapevo, tutti lo capivano, ma anche lei lo capiva E si faceva portare da lui a casa del tizio con cui andava Lui accompagnava lei dal tizio Esattamente, quindi io ho visto, cioè io in qualche modo, ma ce ne erano mille di queste figure